L'ingresso di Vincenzo Marino nei nostri studi. Ciao Vincenzo, come stai? Ciao, buongiorno a tutto, tutto bene? Tutto bene. Vincenzo ha scritto questo libro, Sei vecchio, i mondi digitali della generazione Z. Vabbè, qui su chi è sia la generazione Z abbiamo già discusso ampiamente, sono quelli piccoli. Definiamoli così, molto velocemente, senza stare a dare indicazioni di annate. Dicevamo prima, che cosa guardano quando sono lì assorti, con lo sguardo assorto a guardare, a fissare i loro telefoni, eccetera? Che cosa fanno? Cosa li interessa? Questa è la domanda da cui sono partito, una domanda che in qualche modo mi ossessiona da tempo. Per cercare di rispondere a questa domanda, a questa ossessione, io mi sono dato questa dieta digitale, quotidiana, possiamo chiamarla così, attraverso la quale ho assistito ogni giorno a ore e ore di contenuti fatti per loro o da loro. Quindi un'ora di TikTok al giorno, un'ora di Twitch al giorno, un'ora di Instagram. Ti sei dato le scadenze così, ti sei fatto la schedule della giornata così. Sì, sì, proprio un palinsesto personale per riuscire, perché secondo me sono contenuti che bisogna consultare e consumare giornalmente per capirli davvero, bisogna inquadrarli in un filone, cercare delle tendenze per capire anche perché questi ragazzi più giovani di noi, chiamiamoli così, sono così attirati dalle cose che vedono sugli schermi. E alla fine ti sei dato una risposta del perché siano così attirati, cioè in questa anche orizzontalità di racconto che tu hai capito sia necessaria, mentre io per esempio pensavo che fosse tutta verticalità, cioè la cosa che mi colpisce quando rimango anch'io incastrato su TikTok per delle ore è che questo meccanismo di zapping frenetico che tu puoi fare semplicemente scorrendo sullo schermo, lo consideravo una cosa molto verticale, cioè non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, ah questo è interessante, non mi piace, non mi piace, quindi ti passa senza accorgertene un'ora dove hai visto il 95% delle cagate, però c'è anche un 5% di cose che ti hanno tenuto lì e ti hanno drogato mentalmente nella continua rincorsa a un altro contenuto simile. Esatto, la risposta che mi sono dato è che probabilmente potrebbe essere anche quella giusta è che noi stiamo passando in un momento in cui i social network sono diventati da reti di relazioni, cioè noi siamo amici con altre persone, con loro discutiamo e guardiamo i loro post, a delle piattaforme diciamo performative e adesso noi utilizziamo i social network per divertirci, per guardare intrattenimento, quindi chiaramente più intrattenimento guardiamo, più ci intratteniamo, più abbiamo voglia di guardarne ancora. Ai nostri tempi, mi viene da dire questa frase bellissima, ai nostri tempi avevamo MySpace, avevamo anche il primo Facebook che era sì divertimento, ma anche un modo per comunicare con gli altri, per capire cosa succedeva nel mondo. Principalmente sì, potevi acchittarlo soprattutto MySpace con la tua canzone preferita che partiva ogni volta che ti connettevi eccetera eccetera, però principalmente era un... Una vetrina? Sì, una piazzettina con gli amici. Poi tra l'altro avevi anche la classifica degli amici, se ti ricordi tu avevi la top 6. Ecco, noi adesso ci lamentiamo, quella forse è la cosa più violenta. Tremendo, tremendo. Io ci passavo i pomeriggi a capire chi mette per primo. Esatto, tu potevi avere su MySpace tra l'altro credo un numero limitato di amici, credo che non potesse superare i 5.000 a un certo punto, non vorrei dire una stupidata, ma nell'home page c'era questa classifica dei tuoi 10 amici preferiti o 8 forse amici preferiti, che andavano messi in ordine di gradimento. Una roba che ha fatto litigare. Sì, 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 infatti per non litigare con la gente a un certo punto ha messo solo i gruppi musicali, ma anche lì cosa metto? Eh certo, per dare la giusta immagine di me, ma anche sembrare un po' più figo di quello che sono. Io ci ho messo gli Alcadine Free tra l'altro. Eh, hai fatto bene, non so se hai saputo, stanno per fare un disco con i Blink 182. Senti, quando si parla di luoghi dove i ragazzi passano un sacco di tempo, YouTube si dà per scontato, ormai si cita un po' meno. Si cita tantissimo TikTok, si cita Twitch, sempre più spesso, che sta iniziando a diventare un po' più famoso, poi ci sono anche però altri canali, no? C'è Discord, per esempio. Dove stanno principalmente i ragazzi? Principalmente adesso, io nel libro cerco di partire sempre da dati quantitativi, sicuramente TikTok è la piattaforma principe, quella sulla quale si trascorre più tempo, secondo alcune ricerche addirittura il tempo speso su TikTok in media di minuti al giorno, di ore al giorno, è un po', potrebbe essere addirittura la somma del tempo che spendiamo in questo momento fra Instagram e Facebook messi insieme, e quindi questo ci fa capire quanto effettivamente si rilevano. Ha un meccanismo perverso per cui ti inchioda lì, cioè è difficile, mentre Instagram puoi entrarci, dare una scrollatina e uscire, TikTok è più difficile poi levarti, cioè devi proprio fare uno sforzo, uno sforzo mentale. Noi abbiamo spesso parlato anche di mondo del lavoro, dei giovani, stiamo vivendo un periodo in cui c'è una grande crisi del lavoro, quanto secondo te la facilità di guadagno o il miraggio della facilità di guadagno, facendo fondamentalmente un cazzo, perché poi adesso io sono sicuro che i creator dicono ah no, noi creiamo contenuti, sì. Se però il contenuto è accendere una telecamera e passarci sette ore davanti, è vero che sono sette ore della vostra vita dove voi state lì a giocare, a qualcosa, però è uno sforzo sicuramente minore rispetto ad andare a lavorare. Quanto questa cosa sta convincendo i ragazzi che non valga la pena fare uno sforzo, per esempio, di studio o di praticantato, ma basti mettersi davanti a un computer per avere un guadagno? Esatto, per darti un altro dato quantitativo, secondo le ricerche americane, il 30% dei rispondenti a un sondaggio dei college avrebbe detto che il lavoro dei sogni è diventare youtuber, è tipo l'astronauta all'11%, quindi questa cosa chiaramente si riflette nel modo in cui consumano i loro prodotti culturali su internet e anche le loro aspirazioni. Stiamo parlando di una generazione che, secondo altri dati, sarebbe incapace di passare più di quattro ore fuori da internet, senza internet, che quindi è abituata a frequentare internet come primo luogo della giornata, la piazza principale, e così facendo chiaramente si ritrova a ragionare anche in termini quasi economici, secondo la propria vita, adattandola a questo tipo di economia. Anche perché no, giustamente, uno dice, ma ne stavamo parlando prima fuori onda, e non è una critica, o perlomeno è un mal comportamento, secondo me, ma non colpa dei ragazzi, è indotto. Se fosse esistito Twitch quando io avevo 16 anni, sono sicuro al 100% che io e il mio migliore amico Derry saremmo stati tutto il giorno a giocare ai videogiochi e intanto riprenderci, perché non devi fare niente, cioè stai lì, fai quello che faresti normalmente, intanto ti riprendi e hai un guadagno. E quindi questa roba qua i ragazzi la valutano, no? Cioè dicono, tanti io passerai comunque la giornata a giocare ai videogiochi, tanto vale che provo a guadagnare così. Esatto, la valutano e poi vedono degli esempi di successo, chiaramente, perché appena scopri, tra l'altro c'è stato un leak qualche mese fa, attraverso cui abbiamo scoperto che i guadagni magari degli streamer su Twitch sono abbastanza importanti, almeno fino a qualche tempo fa, e questa cosa in un certo senso non può non invogliare, così come magari alla nostra età, e lo ripeto di nuovo questa formula terribile, il nostro sogno era allestire una rock band, diventare un cantante, una storia eccetera, adesso puoi farla più facile, e soprattutto sai che nel mondo dell'intrattenimento non c'è solo la musica, non c'è solo il film, non c'è solo fare video, ma c'è anche questa arte un po' ibrida dell'essere un personaggio su internet trovando il tuo contenuto principe. Allora, parliamo un po' di quali sono i contenuti che si trovano. Prima, sempre prima di iniziare la puntata, stavamo parlando di Gischianto. Gischianto è un personaggio di Twitch, quindi questa piattaforma appunto in cui si fanno delle live molto spesso, molto lunghe, molto spesso, molto lunghe. È un ragazzo a cui, quando capita anche a me di andare su Twitch, mi è anche capitato di fargli un ride. Che cos'è il ride? Il ride è quando tu hai finito il tuo programma, è come se io, alla fine di Catteland, qui su Radio DJ, passassi non solo la linea al programma che viene dopo di me, quindi a Cicciolancia e a Frank e a Chiara, ma gli donassi proprio i miei ascoltatori, cioè trasmigro i miei ascoltatori fisicamente uno per uno nel loro programma, così da arricchire anche la loro audience. Tra l'altro Gischianto ha molti più ascoltatori di me, io su Twitch sono proprio minimo, quindi non è che gli stia facendo un grande favore. Che cosa fa, per esempio, Gischianto su Twitch? E questo si collega anche un po' al meccanismo, cioè al ragionamento di prima, per cui è vero che è una fatica fisica, però è ovvio che uno la consideri un po' un non fare niente di che, no? Lui a volte fa delle dirette di quanto? Di 60 giorni. Di 60 giorni continuativi. 60 giorni continuativi, che è chiaro che sia uno sbattimento, però poi dipende che cosa offre. Lui cosa offre? Allora, lui intanto è famoso in Italia, nel mondo di Twitch, ossia questa piattaforma sulla quale puoi trasmettere in streaming quello che vuoi, anche la tua vita stessa, proprio per la trasmissione online della sua giornata. Lancia queste maratone, o sabaton, come si chiamano in US, attraverso le quali lui fa vedere cosa fa durante la giornata. Si prepara il pranzo, gioca magari a GTA, e semplicemente chiede agli spettatori di ricevere delle donazioni, perché su Twitch si possono donare dei soldi, ci si può abbonare a dei canali, e attraverso queste donazioni chiede alla gente di allungare il tempo di durata, la durata della sua maratona. E quindi magari lui dice, parto con una maratona di 10 giorni, voi donate, e più donate, più la maratona è lunga, e succede anche che questa maratona arrivi a 60 giorni. Cioè, se arriviamo a questa cifra, io l'allungo di un altro po'. Esatto. Ma quindi, ovviamente, durando anche 60 giorni. Allora, questo secondo me, per chi ascolta Radio DJ, per chi ascolta la radio, è difficile capire, perché quello che lui fa è vivere la sua vita. Immaginate il grande fratello, ma lui da solo. Esatto. Non interagisce con nessuno, interagisce sì con la community che lo sta seguendo, però non fa niente di diverso da quello che farebbe abitualmente vivendo. Giusto? Sì. Non fa nulla. Semplicemente si fa riprendere. In questo non fare nulla di diverso da quello che farebbe, c'è anche il dormire. Esatto. Cioè, lui tiene la telecamera accesa mentre dorme e la gente lo può guardare dormire. Esatto. Il suo contenuto, però, non è soltanto dormire in diretta, perché altrimenti sarebbe abbastanza noioso vedere una persona che dorme al buio. In realtà, lui, attraverso tutta una serie di strumentazioni collegate ad altre strumentazioni, riesce a collegare il messaggio che tu puoi mandargli quando fai l'abbonamento. Sì. Tipo, ciao, oggi schianto, ti voglio bene, con questi aggeggi. Questi aggeggi vengono triggerati in qualche modo da queste frasi che possono essere ciao, accendi pioggia, ciao, accendi vento, e lui può ricevere addosso, può farsi cadere addosso della pioggia oppure della neve finta oppure della schiuma o la sveglia, semplicemente che lo sveglia. Cioè, quindi lui va a dormire ma la gente che lo osserva mandandogli dei messaggi può infastidirlo e svegliarlo. Esatto. In cambio di soldi. Esatto. uno paga per rompergli le scatole mentre dorme. Per cattiveria. La cosa che colpisce di più è che oggettivamente come dicevi tu non è contenuto, lui non sta facendo niente, sta semplicemente dormendo ma nel momento stesso in cui lo vado a svegliare pagando magari quattro euro e lui si sveglia e sbraita, io vedendolo sbraitare lo vedo creare un contenuto, un contenuto super originale. Certo, perché lui comunque viene svegliato, gli gira le balle come a tutte le persone che vengono svegliate si incazza e questa cosa qua genera contenuto. E in qualche modo lui sta monetizzando il fatto che venga svegliato. Sì. Che secondo me siamo ai livelli 4-5 strati di monetizzazione impensabile. Sì, però lui c'è arrivato e voglio dire ha un grandissimo seguito. Allora, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco, vi promettiamo di non addormentarci durante la pubblicità ma soprattutto di svegliarci nel caso da soli senza bisogno delle vostre donazioni. Ci risentiamo tra pochissimo sempre su Radio DJ. Bentornati su Radio DJ. Siamo sempre in compagnia di Vincenzo Marino che ha scritto un libro che si titola Sei Vecchio, parla dei mondi digitali della generazione Z. Qualcuno ci sta scrivendo chiedendoti che cosa hai trovato in questo periodo di osservazione che tu hai passato appunto sulle piattaforme dei ragazzi molto giovani che ti è piaciuto. Ah, che mi è piaciuto? Cos'hai scoperto di interessante? Allora, a me piacciono molto, a me piace un po' tutto, devo dire la verità. Per me non è una grande fatica guardarmi un'ora di YouTube cercando quali sono i video più trending di quel giorno. Quindi mi piace praticamente tutto da YouTuber che magari mettono a paragone le loro diete per vedere come funzionano al ragazzo che va in Australia per cercare di festeggiare il Capodanno tre volte approfittando delle tre time zone diverse. Le tre fusi orari, sì. L'intrattenimento in generale su internet mi piace quando sembra oggettivamente sincero, cioè quando non ci provi troppo a diventare famoso a guadagnare più soldi. Ecco, mi sembra che l'essere sincero sia un po' alla base del successo delle web star nel momento però in cui non hanno successo. Nel momento in cui poi ce l'hanno è difficile mantenere quella credibilità e quell'innocenza quella purezza quanto dura mediamente la vita di una web star? Diciamo che in questo momento il paradigma sta un po' cambiando perché stiamo passando dal mondo dall'epoca degli influencer ossia delle persone con un sacco di seguito su Instagram su altri canali che possono orientare dei messaggi che possono veicolare anche dei prodotti come sappiamo a un mondo più orientato sulla content creation quindi sui content creator content creator però adesso sono potenzialmente tutti perché se noi prendiamo per esempio il modo in cui funziona TikTok su TikTok una cosa funziona non perché è stata laicata da tante persone ma funziona perché l'algoritmo questo codice che decide cosa ti piace capisce cosa ti piace e te lo mette nella tua home in questo modo potenzialmente chiunque con un video può essere in grado di raggiungere una certa massa critica e farsi così credersi così un content creator a quel punto la longevità della tua vita da content creator dipende da quanto effettivamente sai fare qualcosa e si perché poi molto spesso magari una cosa che hai fatto è divertente proprio perché l'hai fatta inconsciamente poi quando provi a replicarla non è detto che tu ce la faccia che problemi dà questa cosa ai ragazzi questo inseguimento costante poi del contenuto si parla tanto di frustrazione all'interno della generazione Z ci sono diversi studi che a livello sociologico e psicologico parlano di una generazione parecchio frustrata sia da un punto di vista delle sfide globali siamo chiaramente in un periodo abbastanza complicato chiamiamolo così sia da un punto di vista parliamo presente la FOMO sia quella 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 necessità di essere nei posti quando non ci si è o di sapere le cose quando non si sanno ecco adesso si sta parlando addirittura di un'evoluzione di questa FOMO e il sapere che si hanno tutte le possibilità le piattaforme magari anche le credenziali giuste per diventare famoso essere visto da tante persone senza poi poterle davvero sfruttare crea una certa frustrazione anche condivisibile che secondo questi studi appunto sarebbe tipica di questa generazione ti faccio la domanda da boomer dei boomer però io per esempio trovo che ci sono pochissime categorie che mi infastidiscono come quelli vecchi che hanno paura di sentirsi boomer cioè se sei se sei boomer sei boomer sei più patetico nel cercare di rincorrere la generazione Z a tutti i costi questo modello non porta a un impoverimento dell'arte sì ci ho pensato anch'io allora la prospettiva del libro non dico che è un po' pessimistica però ho anche il sospetto tu parlavi della musica ho il sospetto che la musica adesso per esempio venga vissuta quasi come content e non come arte per sé così come altri aspetti dell'espressione della propria creatività e quindi questo content in quanto content su internet può essere monetizzato trovando la piattaforma e il linguaggio giusto la musica diventa un accessorio da mettere in un video esatto per esempio il gruppo italiano più famoso nel mondo i Mane Skin della storia il loro credo più più grande successo ad oggi è una cover che avevano fatto X Factor che è diventata virale su TikTok utilizzata come sottofondo nei contenuti cioè non interessa più la canzone intera basta quel a volte 5 secondi catch di canzone da poter replicare su video mentre fai mentre fai altre cose esatto ma anche quello che sta succedendo nell'industria musicale in particolare è molto interessante perché se pensi che su TikTok Yabba sono tipo i king della scena e c'è quella famosa canzone che poi è stata coverizzata comunque di cui è stato preso il campione da Madonna quella fa Time Goes By Sì certo Hang Up Hang Up in realtà per la generazione Z voglio dirla così è più famosa nella versione originale di Yabba che era quella di Madonna che in realtà è più vicina a livello di una grafica sì sì a livello di temporale più vicino a loro va bene mettiamo Tommaso Paradiso viaggio intorno al sole e ritorniamo tra pochissimi insomma per salutare anche Vincenzo Vincenzo è entrato Walter con una domanda che non è scema ha un dubbio che mi sono chiesto anche io la domanda è buona la domanda è buona Walter cosa volevi chiedere a Vincenzo perché la generazione Z guarda gente che gioca ai videogiochi invece di giocarli allora questa roba è incredibile perché io mi ricordo ma tutti tutti noi quando andavamo in sala giochi che spesso era l'unico posto in cui c'erano i videogiochi prima ancora che arrivassero le console tu detestavi il fatto che ci fosse qualcuno davanti a te che stava giocando e stavi lì a fargli lo guardavi solo per mettergli pressione psicologica farlo perdere e prendere tu il suo posto perché la cosa bella era fare invece adesso la cosa bella è guardare qualcuno che gioca a FIFA a Call of Duty adesso nei piccolini tipo età di mia figlia va tantissimo questo gioco Roblox conosci? si 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 è grave? no è una cosa glielo devo levare? glielo devo levare? no ok perché io mi sono informato allora i due capisaldi adesso sono Minecraft e Roblox mi sono informato mi ha detto Minecraft in realtà ha una parte di creatività anche molto interessante per i bambini possono giocare in maniera molto safe diciamo così Roblox è un po' più infatti Roblox sto tendendo a a limitarlo ma soprattutto più che giocarci guarda persone vorrebbe guardare persone che ci giocano si allora la risposta a questa domanda potrebbe essere sorprendente essendo a me non è il fatto che io Vincenzo guardo il Masseo giocare a FIFA il Masseo è uno streamer ma guardo il Masseo che poi gioca anche a FIFA cioè il discorso è la personalità che mi trascina se io voglio guardare qualcuno giocare a FIFA effettivamente guardo il Masseo guardo Zano guardo qualche altro streamer ma non guardo chiunque che giochi a FIFA non vado non cerco FIFA sulla chiave di cerca ma questo dipende dal fatto che loro sono più bravi a giocare a FIFA sono più bravi a dire cose che poi spesso sono bestemmie mentre giocano a FIFA qual è il tratto che attrae poi ragazzi è l'intrattenimento o la qualità da giocatore la qualità allora c'è la parte del gaming che è più relativa all'e-sport dove si parla già di professionisti e quindi magari se sei un po' se ti piace un certo tipo di gioco vuoi vedere come viene giocato da un professionista lo guardi altrimenti è più la personalità trainare ed è un po' lo stesso meccanismo che trascina un po' tutti gli altri contenuti di internet perché se io guardo per esempio il collegio il programma di Ray 2 che è molto famoso tra gli under 25 mettiamola così lo guardo sì per il meccanismo ma lo guardo anche per il fatto che ci sono dei tiktoker già abbastanza affermati così come in su altre piattaforme e in altri format a me interessa la personalità più che quello che sta facendo quindi a me piace guardare Hank che mi parla di cose sull'intelligenza artificiale su Twitch piuttosto che andare a cercarmi qualcuno che fa la stessa cosa su YouTube però non lo conosco certo ma infatti poi qui abbiamo anche un po' fatto l'avvocato del diavolo perché è un mondo che secondo me il nostro pubblico conosce poco per esempio a me il Masseo piace molto e mi rendo conto di rimanere anch'io attratto da queste cose per esempio ma anche tu quando guardavamo Moonride che gioca Call of Duty perché lui mentre gioca è vero cioè non è tanto la partita che fa ma comunque dice delle cose da intrattenitore cioè è uno figo e l'altra cosa che leggendo il tuo libro mi ha fatto effettivamente pensare un filone che va molto sono le reaction su Twitch tu stai lì ti riprendi mentre guardi un contenuto qualunque che può essere il programma andato in onda ieri sera in televisione e stai lì commenti quello come se fossi sul divano di casa tua commenti quello che vedi tu dici è un po' quello che faceva la jalapas sì sostanzialmente mai dire tv se noi pensiamo ma dire tv c'erano loro che commentavano le telenoveli piemontesi se non sbaglio queste cose qua sostanzialmente si loro guardano delle cose le commentano alcuni di questi personaggi come il Maseo stesso di cui abbiamo parlato sono riusciti a farne una cifra stilistica e anche a trovarne un metodo di monetizzazione abbastanza importante per esempio l'ultima volta la penultima volta che è andato in onda appunto il collegio di cui parlavo prima il Maseo ha chiesto alla propria community se volete che io faccia le reazioni al collegio quindi parli di questi personaggi che frequentano questa trasmissione voglio che vi abboniate in 20.000 per esempio e 20.000 sono stati gli abbonamenti quindi anche un certo entrato economico stiamo parlando di un abbonamento su Twitch costa più o meno 4 euro se non lo fai attraverso Prime quindi facile fare i conti è una cosa che è massima resa con spesa minima certo stai lì dove li trovano i soldi i ragazzini dove li trovino dai genitori è santrino eh no sì comunque deve avere una carta di credito non è quella roba che vado a prendergli le 2 euro dal portafoglio beh no lì tecnicamente cosa funziona esiste un mini account da utente dove tu puoi distribuire le tue donazioni o ogni volta è una transazione come se stessi acquistando un oggetto Twitch ti permette di comprare dei bit ok tu ti compri un pacchetto di questi bit e poi li distribuisci è un po' come quando vai alle giostre tu dai 20 euro subito ti prendi dei gettoni e poi decidi tu dove andare a spendere questi gettoni di volta in volta sì sì è lo stesso meccanismo che c'è per esempio nel gaming mobile per esempio qui su Fortnite compri una serie di cose ti puoi comprare le skin eccetera eccetera va bene Vincenzo grazie mille per essere stato con noi ci hai aiutato a fare un po' di chiarezza in questo mondo che comunque bene o male ci riguarda più o meno tutti ti Grazie a tutti